Favorire la nascita di una nuova cultura giovanile sull'innovazione applicata alle scienze della vita. E' questo l'obiettivo di iFuture, un progetto di Jansen che in occasione dei suoi 40 anni in Italia ha realizzato in collaborazione con iTalk, un evento culturale di storytelling nato per ispirare, motivare e far riflettere, e il Roma Web Fest. E noi ne parliamo con Jeanette Denardis, direttrice del Festival Internazionale delle Web Serie. Allora, dottoressa, che cos'è iFuture? E' un evento in cui oggi si andrà ad ascoltare sei relatori d'eccezione che andranno a parlare di tutto quello che riguarda la salute e soprattutto il futuro, il domani, l'investimento su quella che è la nuova tecnologia, su quello che è investire appunto sulla salute. E appunto ogni relatore di oggi avrà 12 minuti per poter parlare e portare quella che è la sua esperienza. Questo è il future di oggi. E cosa succederà dopo la giornata di oggi? Dopo la giornata di oggi avremo appunto tutto lo svolgimento di quello che è il concorso, il concorso per, bando di concorso per realizzare una web serie che abbia in sé tutti quelli che sono i valori della Janssen. Quindi oggi, appunto al termine del nostro incontro, sarà lanciato questo bando di concorso che troverete dall'11 maggio sul sito della Janssen e sul sito del Roma Web Fest, dove per l'appunto si richiederà a tutti quelli che sono creativi, autori, sia italiani che internazionali, di inviare una loro idea di web serie che parli dei temi che verranno spiegati per l'appunto oggi. E verranno prese in considerazione tutte le idee, ma ne saranno selezionate cinque. Queste cinque avranno l'opportunità di essere sviluppate con un teaser, quindi un piccolo concept che poi le vado a spiegare meglio anche dal punto di vista visivo. Queste cinque realizzazioni, questi cinque progetti verranno poi presentati durante le giornate del Roma Web Fest a settembre, il 25 settembre all'interno del Museo Maxi e durante la premiazione del Roma Web Fest ne sarà scelta una dalla giuria e finalmente si potrà andare alla realizzazione dell'opera. Quindi avremo quattro puntate di una web serie che avrà in sé i valori di cui parleremo oggi. Grazie a tutti.